Assomiglia sempre più a un bollettino di guerra la situazione degli incendi nell'imperiese. Un altro vasto incendio si è sviluppato nella tarda serata di ieri a Toria, frazione del comune di Chiusanico in Valle Impero e ancora una volta le fiamme si sono pericolosamente avvicinate ad alcune abitazioni che sono state presidiate per tutta la notte da protezione civile e corpo forestale. Ieri sera nella piazza di Toria è stato creato un centro di coordinamento di soccorsi nel quale sono affluite due squadre del corpo forestale, due dei vigili del fuoco e otto squadre di volontari della protezione civile. Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato una serie di accertamenti insieme alla forestale per cercare di dare un volto e un nome al responsabile dell'ennesimo disastro. Le operazioni di bonifica dell'incendio sono andate avanti anche oggi con l'intervento di Canader ed elicotteri.